Le notizie in 60 secondi. Continua anche oggi l'ondata di maltempo sul Golfo di Napoli. Ad Ischia da stamani violenti acquazzoni accompagnati dal vento. Difficoltà anche nei collegamenti marittimi, sospese le corse dall'iscafo da Forio. La Caremar ha dirottato nel porto di Ischia le partenze di traghetto previste per oggi dal porto di Casa Micciola. Questa sera alle 18 Teleischia trasmetterà la pediatria in pillole. La trasmissione di Teleischia dedicata alla salute del bambino e dell'adolescente a cura del dottor Geppino Parisi. Questa sera appuntamento con lo speciale Teleischia con inizio alle ore 21.10. Con l'appuntamento intervista rilasciataci da Ottavio Bianchi, il primo scudetto. E tanto altro ancora l'ex allenatore e calciatore del Napoli. Si racconta e racconta i tanti personaggi che ha incontrato nella sua parentesi partenopea. E non solo un tuffo nel calcio del passato al microfono di Enrico Buono. Divieto di sbarco per le isole del Golfo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il divieto di afflusso e circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori per l'isola di Ischia decorrere dal 29 marzo 2024. Il mercoledì santo a Casa Micciola questo pomeriggio alle ore 16 ci sarà la celebrazione della Santa Messa al termine della quale sarà portata l'immagine della Madonna addolorata alla chiesa di Santa Maria della Pietà da dove partirà venerdì con la processione della Madonna di notte. Prossimo appuntamento ore 20. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.